si è tutto giusto quello che avete detto assolutamente non si può chiedere per altri però noi possiamo fare un'operazione potentissima che è quella di ripulire noi stessi al punto da raggiungere quella serenità e quell'affidamento per noi stessi che ci permette di stare in pace rispetto alla situazione che stanno vivendo i nostri cari siccome noi siamo co creatori della realtà e siccome e le persone che fanno parte della nostra realtà sono incastrate con noi e condividono con noi in oponopono si dice condividono delle memorie quando noi abbiamo pulito per noi stessi quelle memorie le abbiamo pulite anche per loro cosa significa questo che abbiamo armonizzato un'energia condivisa per cui nella nostra vita non ci sarà più bisogno di scossoni da parte di quelle persone quindi se queste persone sono sufficientemente allineate con noi e sufficientemente connesse con noi abbiamo fatto un lavoro anche per loro tra virgolette in realtà non abbiamo fatto un lavoro per loro l'abbiamo fatto per noi e la nostra emanazione è utile anche a loro chiaramente quando si parla di figli di mariti di persone che amiamo profondamente soprattutto se le amiamo proprio è difficile che la soluzione l'armonizzazione di tutta la situazione sia che queste persone se ne vadano dalla nostra vita perché altrimenti stare cioè staremo male non saremo più sereni quindi se abbiamo fatto un lavoro di armonizzazione la situazione che si realizzerà sarà una situazione armonica per noi e quindi siccome Gesù quella volta ci ha detto a proposito che questa tua che questa ragazza segue segue la chiesa quindi ci siamo nel senso gli insegnamenti sono gli stessi Gesù quella volta ci ha detto ama il tuo prossimo come te stesso perché perché non c'è differenza tra noi stessi e il nostro prossimo stiamo sempre parlando di un'energia unitaria quindi se io sto bene con me stesso e la mia realtà è armonica non possono esserci persone che io amo e che comunque sono importanti nell'evolvere della mia della mia quotidianità che stiano veramente profondamente profondamente male perché altrimenti io non potrei stare bene io non posso stare bene se le persone che amo stanno male cioè su questo non sì non credo che abbia bisogno di essere argomentato perciò tornando all'inizio del discorso se noi facciamo una pulizia su di noi e col focus su di noi cioè io non lavoro su di me perché loro stiano meglio io lavoro su di me per vedere la bellezza in quello che sta accadendo questo è l'obiettivo quando io comincio a vedere la bellezza nella mia realtà la bellezza si manifesta anche nella loro tendenzialmente poi appunto non deve essere questo l'obiettivo perché dopo dopo non è un sistema di problem solving e nessuna pratica spirituale in realtà è un sistema di problem solving fatto sta però che in conclusione abbia avremmo fatto un gran lavoro anche per per l'armonia e ben vivere anche delle persone che che amiamo e che ci stanno a cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti